un caro saluto un caro saluto a tutti gli amici e le amiche a tutti i nemici e le nemiche che si stanno collegando anche oggi per la nostra diretta quotidiana benvenuti in questa diretta amore solito proveremo a svolgere alcune considerazioni di quella che con michelle foucault sono solito appellare l'ontologia dell'attualità che poi il tentativo di pensare controcorrente il nostro concitato presente l'obiettivo è quello di provare a fornire alcune piste per possibili diverse interpretazioni della realtà sottratte alla presa mortificante spesso anche mistificante del pensiero unico politicamente corretto e anche geopoliticamente corretto che poi molto spesso è anche un pensiero unico eticamente corrotto ma questo è un altro discorso del quale ci siamo occupati in altra sede ricordo a tutti che se ritenete utile ciò che quotidianamente facciamo con queste dirette se volete supportare il nostro agguerrito e pugnace gruppo di lavoro che ogni giorno si opera per si ad opera per provare a pensare altrimenti potete farlo con i badge di sostegno su instagram oppure abbonandovi alla pagina facebook proprio qua dove c'è il cuoricino verde cliccando lì vi abbonate così supportate il nostro gruppo di lavoro e in più oltretutto entrate anche nel nostro gruppo riservato di discussione altro metodo ancora potete supportarci con libere donazioni da www.filosofico.net slash sosteneteci ripeto www.filosofico.net slash sosteneteci liberi di sapere di far sapere è il nostro motto bene questa sera vorrei dedicare la nostra discussione quotidiana le nostre considerazioni giornaliere della diretta alla situazione dell'italia da che l'italia l'abbiamo ben capito purtroppo sta precipitando nell'abisso viene portata nell'abisso da un manipolo di sfascia carrozze i migliori peraltro sul mercato infatti si sono autoproclamati il governo dei migliori senza specificare migliori in cose esattamente la mia linea ermeneutica è quella che propone di intenderli come i migliori sfascia carrozze sul mercato e stanno letteralmente sfasciando con ottimi risultati va detto l'italia tutta portandola nell'abisso la stanno portando nel baratro intanto il primo gesto per portarla nel baratro è stata è stato quello di portarla nell'unione europea ma qui partiamo da molto lontano ancor prima è stata quella di portarla nella nato e di fatto di lasciare che diventasse una sorta di colonia come tuttora di washington e poi naturalmente arriviamo ancora a momenti più vicini a noi arriviamo essenzialmente al ai due anni di emergenza epidemica con cui hanno scelto di distruggere le libertà i diritti e l'economia in nome della lotta contro il nemico invisibile e poi dulcis in fundo adesso si è deciso o meglio hanno deciso di annientare l'italia portandola in guerra perché di questo di questo si tratta l'ho detto più volte lo ripeto anche oggi di modo che sia chiaro e non ci siano equivoci e fuorviamenti il sottoscritto si si caratterizza oltretutto per essere un fermissimo sostenitore della pace e quindi ritengo scellerata e sciagurata la scelta di portare la guerra in ucraina da parte dell'italia l'italia avrebbe dovuto perorare le ragioni della pace per più motivi che abbiamo più volte preso in esame mi permetto di richiamarli celermente in primis l'italia avrebbe dovuto difendere le ragioni della pace da che a chiederlo e la nostra costituzione la quale lo cito ogni volta e lo cito anche questa sera l'articolo 11 della nostra costituzione dice testualmente che l'italia ripudia la guerra come strumento di offesa e anche come strumento per dirimere le controversie internazionali tanto basti per respingere questa sporca guerra in ucraina ma poi c'è anche l'elemento ideale se vogliamo dire così non ci dicevano forse che l'unione europea doveva proteggerci dalle dalle guerre era una fake news a quanto pare se è vero come vero che l'unione europea ci sta portando in nuove guerre ecco di cui questa con l'ucraina anzi o meglio contro la russia al fianco dell'ucraina per conto di washington è effettivamente il tragico epilogo poi ci sono anche elementi se volete più prosaici e materiali ma che pure non vanno trascurati quelli in forza dei quali possiamo ben dire questa guerra non conviene né all'italia né all'europa tutta e infatti l'italia e l'europa la fanno semplicemente perché sono costrette a farla da washington di cui sono colonia ecco sotto questo riguardo è inutile ripeterlo già lo sapete le sanzioni alla russia non fanno un baffo alla russia che anzi si potenzia distruggono l'economia in italia e in europa le nostre aziende sono già in ginocchio per non parlare del mondo generale del lavoro insomma queste sanzioni vanno a colpire l'italia e l'europa non certo la russia e tuttavia voi già capite perché dobbiamo fare la guerra alla russia perché ce lo chiede washington e se washington comanda noi dobbiamo obbedire cadavericamente leggevo oggi un cinguettio siamo anche su twitter seguiteci anche lì un cinguettio di guido crosetto una delle anime del partito ultraliberista detto fratelli d'italia che diceva ma dov'è il problema con la nato e con gli stati uniti vi siete mai sentiti oppressi o limitati dalla nato dagli stati uniti io no diceva crosetto ecco mi permetto garbatamente di far notare a al signor crosetto che forse lui non si sentirà particolarmente turbato dalla presenza della nato e di 200 basi militari statunitensi più chissà quante basi segrete e non conosciute io sì personalmente e mi sento un po nella condizione di chi sa che il suo paese lungi dall'essere libero e sovrano è una colonia di un altro paese da che gli stati uniti non sono un nostro alleato ma sono di fatto i nostri padroni noi siamo una colonia di washington mi piace ribadirlo perché non deve passare inosservato questo aspetto quindi che a crosetto non crei problemi è evidentemente un problema suo che sia un problema per l'italia sa va san dir tra l'altro è un po la situazione di immaginate l'atene di pericle con una guarnigione spartana insediata nell'acropoli ecco probabilmente pericle non avrebbe detto dov'è il problema si sarebbe adoperato per cacciare la guarnigione spartana sull'acropoli ma questo è un altro discorso tra l'altro faccio fede a quello che ha detto crosetto e ci abbino anche quello che ha detto secondo quanto riportato dall'uffington post la l'esponente di spicco del suo partito giorgia meloni la quale ha detto alla fine abbiamo punti di contatto con enrico letta ma voilà lo sapevamo benissimo infatti destra bluette sinistra fucsia sono le due ali dell'aquila neoliberale sono l'alternanza senza alternativa che vinca la destra bluette o che vinca la sinistra fucsia nel quadro del nuovo ordine turbo liberista vince sempre il partito unico del capitale vince sempre l'alto contro il basso quindi poco cambia che ci siano le sinistre fucsia dell'elmetto con enrico letta le sinistre ztl e arcobaleni che traditrici di gramsci e di marx della classe lavoratrice poco conta che ci siano le destre bluette che sono divenute anch'esse ultra liberiste e ultra atlantiste a tal punto da essere interscambiabili con le sinistre questo è l'aspetto per questo la politica oggi dovrebbe più che mai abbandonare la dicotomia inservibile di destra e sinistra e elaborare una nuova concettualità del basso per il basso del servo per il servo per dirle ghelianamente perché destra e sinistra sono partiti dell'alto contro il basso questo è il punto questa è la nuova geografia della politica contemporanea chi fosse interessato trova questo approfondimento nel mio libro globalizzazione la lotta di classe al tempo del populismo ripeto globalizzazione la lotta di classe al tempo del populismo una delle tesi di fondo del libro è proprio questa che nel tempo del neoliberismo destra e sinistra sono categoria dell'alto contro il basso sono le due ali dell'aquila neoliberale che in scena un finto pluralismo in cui i plurali dicono il medesimo i vecchi totalitarismi avevano il partito unico il totalitarismo glamour dei mercati ha partiti plurali che sono però nuance del medesimo abbiamo allora le destre bluette le sinistre fucsia e giorgia meloni che dice che alla fine ha punti di contatto con enrico letta sa va sandir non ne dubitavamo siete in realtà espressioni del medesimo del medesimo ordine neoliberale volete l'unione europea ricordo che anche il partito della meloni salvo errore votò per il fiscal compact a suo tempo correggetemi se sbaglio quindi per dire che destra e sinistra sono interscambiabili sono partiti del capitale per questo c'è bisogno di una riorganizzazione politica dal basso e per il basso questo prova anche a fare ancora italia per la sovranità democratica che è il partito che si richiama le mie modeste idee filosofico politiche andate a vedere se vi interessa il sito www.ancoraitalia.it ripeto www.ancoraitalia.it stanno aprendo sezioni in tutta italia questo per dire che occorre andare al di là di destra e sinistra per provare a pensare altrimenti per poi agire altrimenti intanto vedete la nato che è la causa primissima di questa sporca guerra in ucraina noi condanniamo la guerra in ucraina sia chiaro ma non condanniamo solo chi ha dato l'ultimo pugno nella rissa vladimir putin condanniamo anche chi ha dato i pugni precedenti e soprattutto chi ha sferrato il primo cazzotto quello che ha avviato la rissa e questo primo cazzotto l'ha sferrato la nato negli anni 90 di fatto andando a occupare gli spazi che furono dell'unione sovietica andando di fatto a colonizzare le aree post sovietiche potete tranquillamente vederlo voi stessi aprendo una cartina non è particolarmente difficile aprite una cartina guardate dagli anni 90 ad oggi cosa è successo vedrete che negli anni 90 tutta l'area che era di pertinenza di mosca è stata un poco alla volta passata al setaccio e fatta entrare con le buone o con le cattive con golpe colorati le velvet revolutions gestite dall'alto e fintamente fatte passare per movimenti dal basso bene tutte le aree post sovietiche sono passate sotto le insegne della nato e sono ora avamposti della civiltà del dollaro con missili puntati verso mosca l'ultimo atto di questa vicenda tragicomica era naturalmente l'occupazione dell'ucraina da parte della nato ed è questa la mission come la chiamerebbero gli anglofoni di washington la mission del guitto zelensky prodotto in vitro a washington anzi a hollywood direttamente il guitto zelensky è come sapete un attore nato con la n maiuscola un attore nato che recita il copione scrittogli a washington e ha un unico obiettivo non certo quello di produrre la libertà l'indipendenza e la sovranità dell'ucraina tutto al contrario l'obiettivo è quello di portare di portare l'ucraina nella nato e nell'unione europea per favorire in questo modo ciò che washington già da tempo cerca l'abbiamo detto più e più volte washington cerca due cose essenzialmente in primis portare le basi in ucraina di modo da avere mosca sottotiro con i missili e averla cerchiata alla fine in secondo luogo l'obiettivo connesso con il primo peraltro è quello di produrre un cambio di regime a mosca per sostituire vladimir putin colpevole di non piegarsi a washington e alla anglobalizzazione o anche inglobalizzazione del mondo cioè il mondo che deve passare sotto le insegne washingtoniane sotto l'imperialismo della globalizzazione americano centrica ecco sostituire vladimir putin con un navalni qualsiasi cioè con un guitto tale quale a zelensky un kasparov se preferite questi guitti filoatlantisti che odiano evidentemente la russia zelensky da ucraino e kasparov la odia da russo stesso passato agli stati uniti e fin dagli anni 90 che continua a sputare veleno contro la russia putiniana ora e prima ancora la russia non ancora totalmente passata sotto le insegne le insegne americane putin è un dittatore dice maurizio rossitto con una con un grande guizzo di originalità e quindi i dittatori vanno aboliti bisogna che noi facciamo gli interventismi etici coi bombardamenti umanitari e noi siamo invece la libertà la terra della democrazia draghi invece rappresenta l'essenza della democrazia e la von der leyen rappresenta il non plus ultra dei procedimenti democratici e della libertà e l'arcobalenico vegliardo biden è l'emblema della democrazia chi decide che cos'è un dittatore e soprattutto se c'è un dittatore a che titolo devono essere altre nazioni a rovesciarlo non deve essere il popolo stesso della nazione col dittatore a rovesciarlo prova a porre queste domande magari è attiva una riflessione critica anziché ripetere in maniera automatizzata con pappagallesca enfasi la solita frase putin è un dittatore quell'altro un dittatore la solita narrazione ci sono i dittatori baffuti novelli hitler devono intervenire gli stati uniti lord protettore liberare il mondo cioè farlo passare sotto le insegne americane e c'è ancora chi crede a questa narrazione fumettistica caricaturale demenziale e anche manicomiale mi spiace ma purtroppo non tutti evidentemente hanno la vocazione al pensare con la propria testa del resto diceva Nietzsche in umano troppo umano che esistono gli spiriti vincolati chi sono gli spiriti vincolati bella l'espressione no gebundene geister le chiamavano i gebundene geister sono gli spiriti vincolati quelli che di fatto sono come i cavernicoli di platone sono legati nella caverna e scambiano la loro servitù per la libertà e si adombrano si ingaglioffiscono con coloro i quali provino a pensare altrimenti e magari anche a proporre piste di emancipazione del resto lo dice molto bene Nietzsche in quel passaggio di umano troppo umano oggi bisognerebbe riscrivere disumano troppo disumano visto ciò che stiamo vedendo spiega Nietzsche testualmente che effettivamente ci sono i verbunden geister gli spiriti vincolati che non sopportano l'esistenza degli spiriti liberi chi sono gli spiriti liberi scrive Nietzsche gli spiriti liberi sono quelli che giungono a pensare altrimenti rispetto a come ci si attende debbano pensare alla base del loro ambiente naturale del loro posto di lavoro delle loro competenze ecco abbiamo bisogno di più spiriti liberi e meno e di meno spiriti vincolati ecco di meno spiriti vincolati i più purtroppo sono spiriti vincolati verbunden geister ecco ha ragione il vecchio Nietzsche il quale Nietzsche ci ha insegnato tante cose tra l'altro anche quella per cui la civiltà contemporanea è la civiltà degli ultimi uomini e anzi potremmo dire che oggi coincidono gli ultimi uomini con gli oltre uomini l'ultimo uomo è quello che non crede più in nulla e al tempo stesso realizza la sua superomistica volontà di potenza nel mercato dei consumi quindi abbiamo il nichilismo passivo il nichilismo attivo che coesistono e si realizzano nell'odierna disarmante civiltà dello spettacolo per ultimi uomini con vitalismo di fine settimana vedete anche la Svezia sta entrando nella nato e non solo la Finlandia di cui discutevamo ieri anche la Svezia la Finlandia è più per ovvie ragioni geografiche esposta verso la Russia ma ad ogni modo è interessante questa accelerazione nell'ingresso verso la nato e tra l'altro sia la Svezia sia la Finlandia hanno accampato delle motivazioni davvero tragicomiche dicendo che hanno paura della Russia quindi per paura della Russia si mettono in casa la nato è un po' come se voi avendo paura del lupo anzi dell'orso nel bosco vi metteste in casa un lupo per dire così sono protetto dall'orso che sta nel bosco ecco questo è davvero la figura della servitù volontaria di Etienne de la Boissy andrebbe riletta e riletta più che mai in questo contesto e intanto già si parla anche vedete di una possibilità e storia di questi giorni di razionamenti delle materie prime e dei beni necessari da parte del governo un'idea che viene più volte evocata si parla ad esempio della limitazione dei consumi non solo la demenziale uscita di Mario Draghi sul condizionatore o la pace che effettivamente ci ha lasciato col sorriso e con il pianto al tempo stesso sul volto perché era veramente un'uscita pessima o tempora o mores avrebbe ben ribadito il vecchio cicerone o tempora o mores ebbene in questo contesto in cui l'euro in omane di Bruxelles Mario Draghi l'uomo dei mercati ha detto che bisogna scegliere tra la pace il condizionatore ecco a questo ci ha portato il governo dei migliori sfascia carrozze possiamo ben dire che prima che ci fosse il governo dei migliori sfascia carrozze potevamo avere sia la pace sia il condizionatore ora che ci sono loro dobbiamo scegliere tra la pace il condizionatore in realtà alla fine vedrete che non avremo né l'uno né l'altro perché non avremo né la pace siamo già in guerra inviando le armi all'Ucraina siamo in guerra e facendo le sanzioni alla Russia idem e in più non avremo nemmeno il condizionatore tra l'altro ci limiteranno anche ci limiteranno anche ulteriormente la possibilità di accedere ad altri beni ad esempio il gas di cui si parla il petrolio ma avete sentito Maria Cristina che dice sto ascoltando ma non capisco il razionamento dei beni per beni non si intende solo il pane la marmellata il cioccolato si intende anche naturalmente il petrolio anche altre cose di questo tipo che evidentemente stanno andando in quella direzione ce lo dicono loro stessi che si parla di una possibilità di razionamento qualcuno dice non vai più in tv fusaro ci vado il meno possibile perché tanto è inutile chi deve capire ha già capito chi non capisce non capirà mai e anzi quelle trasmissioni demenziali sono per lo creare un dibattito ma per affossare chi abbia magari ancora qualcosa da dire quindi francamente sono molto critico su queste trasmissioni e mi stupisco ancora che ci siano persone con scarso pensiero critico che guardano quelle trasmissioni e quindi collaborano con il nemico pensate che se nessuno le guardasse non esisterebbero più e invece voi magari le guardate vi lamentate pure e dovreste non guardarle per coerenza no mi pare di poter dire ci ho detto cari amici vedete la situazione è questa si va verso una situazione pericolosa perché non è inimmaginabile anche l'arrivo del possiamo ben dire del del lockdown energetico magari o del lockdown legato ai beni no per non consumare certi beni non bisognerà più infatti magari uscire di casa chi lo sa o magari l'infame tessera verde o green pass con la neolingua smart dei mercati vedrà comparire la spunta verde per chi consuma la giusta quantità di di beni e non magari di energia per chi magari ritiene il ventilo il condizionatore nella giusta nella giusta nella giusta misura e non e non eccedendo chi lo sa le funzioni del dell'infame tessera verde sono molteplici sono molteplici l'avete capito chi ci conosce ci con chi ci conosce chi ha letto magari il nostro libro golpe globale capitalismo terapeutico e grande reset sa che effettivamente sa che effettivamente la nostra tesi è che l'infame tessera verde non è un mezzo ma è un fine ed è un fine che segna l'avvento di una società di controllo totale in cui le nostre libertà sono requisite ci vengono restituite cum granosalis e protempore mediante l'autorizzazione concessa dalla spunta verde facendo ciò che di volta in volta ci chiedono di fare ad esempio ora la spunta verde compariva se ci facevamo benedire col santissimo siero sempre laudando domani magari comparirà la spunta verde se se consumeremo la giusta quantità di energia o se magari avremo la coccarda con la bandierina ucraina chi lo sa chissà quale altre quali altre surreali condizioni vedremo questa è solo una tesi giusto certamente è una tesi che sviluppo di cui mi assumo la responsabilità ermeneutica non è un fatto è un'interpretazione cominciamo a tornare nell'ottica che non esistono solo fatti esistono anche le interpretazioni anzi vi dirò di più i fatti sono sempre mediati da interpretazioni questa è la realtà su cui bisognerebbe tornare a riflettere criticamente vi segnalo anche a proposito di libri che esce il 26 aprile il mio nuovo libro per rizzoli si chiama testualmente questo è il titolo odio la resilienza contro la mistica della sopportazione ripeto odio la resilienza contro la mistica della sopportazione potete già preordinarlo se siete interessati vi segnalo altresì dato che siete amanti del pensiero critico mi pare di capire che parte da metà maggio il mio nuovo corso online in sei lezioni che si chiama il grande reset il tempo delle emergenze sei lezioni online per tutte le info basta che andiate su www.filosofico.net ripeto www.filosofico.net da lì potete trovare sulla pagina principale la locandina con le sei lezioni saranno online da metà maggio fino a fine giugno una lezione alla settimana sul grande reset sulla guerra su finanza e capitalismo sul covid 19 insomma sul tema di cui stiamo parlando la tesi di fondo è che viviamo ormai nel tempo dell'emergenza permanente se siete interessati andate su www.filosofico.net il corso parte da metà maggio costa 250 euro oppure 150 euro per studenti sotto i 30 anni tutti possono partecipare sono aperte le iscrizioni ci sarà un numero limitato di iscritti quindi iscrivetevi il prima possibile se siete interessati ogni lezione avrà anche il clima certo anche l'energia naturalmente a proposito di emergenza ogni lezione avrà una parte di lezione da me tenute poi un dibattito con chi si iscrive vi ricordo anche già che ci sono i prossimi appuntamenti in giro per l'italia dove potrete incontrarmi sarò per aprile poi maggio li diamo più avanti il 20 aprile cena filosofica a milano 26 aprile siamo invece per una cena filosofica a salzano provincia di venezia 27 aprile cena filosofica a pavia 28 aprile aperitivo e cena filosofica a napoli 29 cena filosofica a parma 30 siamo a venafro e quindi trovate comunque tutte le info anche scrivendomi su www.filosofico.net se anche voi volete organizzare una serata un pomeriggio con il sottoscritto magari una discussione di un mio libro un evento pubblico una chiacchierata tra pochi amici anche in un luogo privato così evitiamo l'infame tessera verde scrivetemi fusaro chiocciola filosofico punto net fusaro chiocciola filosofico punto net se vi dimenticate l'email basta andare su www.filosofico.net e lì trovate come sempre tutti i miei dati l'email come supportare il nostro gruppo di lavoro come partecipare al corso sul grande reset il tempo dell'emergenza grazie a tutti intanto grazie anche a chi ci sta supportando liberi di sapere di far sapere il nostro motto vi ricordo che non siamo supportati dagli oligarchi russi né da quelli euro atlantisti che tuttavia sono detti filantropi è solo il vostro supporto che ci dà energia per andare avanti come gruppo di lavoro e per fare queste dirette questi aggiornamenti digitali sulle reti sociali se ritenete utile ciò che facciamo liberi di sapere di far sapere il nostro motto potete supportarci con i badge di sostegno su instagram oppure abbonandovi alla pagina facebook vedete qua dove c'è questo cuoricino verde cliccando lì vi abbonate così supportate mensilmente il nostro gruppo di sostegno di lavoro e potete anche entrare nel nostro nel nostro gruppo di discussione riservato su facebook ancora potete supportarci con bonifici e paypal libere donazioni da www.filosofico.net sosteneteci ripeto www.filosofico.net sosteneteci liberi di sapere di far sapere tra l'altro stanno anche arrivando mi permetto una chiosa su questo tema stanno anche arrivando le multe a coloro i quali avendo più di 50 anni non si sono fatti benedire nonostante l'obbligo con il santissimo siero sempre laudando in secula seculorum arrivano le multe come ho scritto nel mio editoriale quotidiano su il giornale d'italia punto it ogni giorno trovate un mio editoriale la mattina il giornale d'italia punto it la multa dei 100 euro è una multa simbolica deve essere chiaro il governo fa una il governo dei migliori sfascia carrozze fa una multa di 100 euro non per motivi economici sia chiaro ma per motivi puramente simbolici in che senso direte voi per piegare quelli che ancora non si sono piegati alla religione terapeutica gli eretici come dire finora non vi siete fatti benedire siete in odore di eresia non avete preso il santo sacramento della religione terapeutica ora dovete redimervi pentendovi pentitevi pagate la multa e tornate all'ortodossia questo è il senso per piegare i resistenti non ancora allineati questo è un po il il sunto di quello che sta accadendo questo è chi paga la multa evidentemente piega il capo e si pente rispetto al proprio agire con questo non vi sto dicendo che non dovete pagare la multa non sono un avvocato e quindi lungi da me entrare in un campo spinoso minato che non è il mio quindi non vi sto dicendo di pagare o di non pagare la multa vi dico solo questo sì che pagando la multa piegate il capo e vi pentite rispetto alla vostra scelta di non farvi benedire quindi siete poi redenti dal punto di vista della religione terapeutica che è quello che loro esattamente desiderano massimamente sorvegliare e punire avrebbe detto fucco ma dato che siamo in clima di regime terapeutico con igienizzazione costante anche sorvegliare e pulire ecco è il nuovo ordine delle cose grazie a tutti quelli che stanno intervenendo vi ricordo questo corso in sei lezioni online che parte a metà maggio il grande reset il tempo dell'emergenza con piattaforma digitale aperto a tutti a chi è laureato a chi alle prime ai primi passi a chi è esperto è un corso formativo per tutti in sei lezioni online www.filosofico.net trovate la locandina sulla pagina principale con le sei lezioni quando saranno e tutto il resto se siete interessati iscrivetevi perché sono aperte le iscrizioni stiamo già ricevendo molte iscrizioni abbiamo ancora un po di posti disponibili affrettatevi grazie a tutti quelli che stanno intervenendo grazie anche a tutti quelli che ci stanno invitando in tutta italia per fare conferenze presentazioni vi ricordo ancora che esce a fine aprile 26 aprile il mio nuovo libro che si intitola odio la resilienza contro la mistica della sopportazione edito da rizzoli se volete già organizzare una presentazione del libro nel vostro paese nella vostra città a casa vostra potete scrivermi fusaro chiocciola filosofico punto net grazie di cuore a tutti e grazie ai tantissimi che ci stanno supportando anche abbonandosi dove c'è il cuoricino verde qui su facebook o con donazioni da www.filosofico.net slash sosteneteci www.filosofico.net slash sosteneteci un caro saluto vespertino a tutti da diego fusaro ci aggiorniamo per nuove dirette come sempre ogni giorno un caro saluto a tutti da diego fusaro